Torniamo con le vite dedicate alla cultura italiana e oggi siamo con una persona molto importante nel panorama della storia dell'arte, Claudio Strinati, una persona che mi onora della sua amicizia e di cui sono molto felice, devo dire, molto felice che abbia trovato il tempo di essere qui con noi. E quindi io gli do immediatamente il benvenuto a questo incontro e ti lascio un po' raccontare la tua vita, come fin da giovane hai deciso di dedicarti agli studi della storia dell'arte così importante per il nostro paese. Sono stato un po' condizionato, devo dire, ma in senso buono, perché mio padre era un medico e mia mamma era un insegnante liceale. Entrambi erano appassionatissimi d'arte, peraltro mio padre, come molti medici, dipingeva, aveva un amore sviscerato per l'arte. Inoltre mio nonno, mio nonno paterno, è stato un critico d'arte anche di qualche, non dico estrema rilevanza, ma di qualche fama a Roma, aveva partecipato alle attività in un periodo molto bello, era segretario dell'Associazione Amatori e Cultori, che era un'antica associazione. E quindi sono stato molto accompagnato, però anche, devo dire, con grande spontaneità mia, nel senso che mi piaceva. Cioè non ho mai avuto nessuna imposizione, tutto al contrario. È che veramente mi piaceva, soprattutto con mio nonno, mi divertivo a parlare di queste cose. E quindi mi è venuto, proprio, ho stato a Roma, all'università, all'epoca c'era soltanto la città universitaria, la Sapienza, e ho proseguito per un po' l'attività a Roma, poi abbiamo fatto il concorso per entrare nelle belle arti dopo la laurea, che all'epoca si chiamavano ancora così belle arti, che c'era il Ministero della Pubblica Istruzione, che aveva la direzione generale Antichità e Belle Arti, e bandiva i concorsi per i giovani che si volevano avviare in questa carriera. Io feci il concorso e veni assegnato a una prima sede che era Genova, la sovrintendenza di Genova, e mentre stavo prendendo servizio è stato creato il Ministero per i beni culturali e ambientali. Questa fu la prima dicitura promossa da Spadolini. E poi ho continuato. È molto interessante questo viaggio, dalle belle arti ai beni culturali, oggi al patrimonio, alla cultura. Io scrivo spesso che l'arte ha diritto anche di occuparsi del brutto, non solo del bello, però una volta si diceva proprio così. Tu sei stato allievo di Cesare Brandi, pochi nostri ascoltatori probabilmente non sanno, ma nella storia dell'arte in Italia a un certo punto c'è stato un dibattito molto molto forte fra una linea di indirizzo che era quella di Lionel Oventuri e poi un'altra linea che era quella di Roberto Longhi. Brandi è stato un po' un punto di equilibrio fra i due. Questo dibattito così forte in Italia, come l'hai vissuto? L'ho vissuto proprio dal punto di vista di un giovane che voleva avviarsi alla carriera delle belle arti, per un motivo ben preciso. I grandi contrasti tra Roberto Longhi e la sua scuola, Lionel Oventuri e la sua scuola, quindi tra l'altro tra Firenze e Roma, perché Longhi era titolare di cattedra a Firenze, era stato titolare, e Venturi a Roma. La scuola romana dipendevano da un fatto evidente e clamoroso, cioè c'era stato il fascismo. Longhi in qualche modo non è che avesse aderito, però era comunque organico a quel mondo, lavorava al ministero, era una personalità molto autorevole e certamente c'era un riferimento a lui molto importante. Venturi invece è uno dei pochi docenti che rifiutò di firmare il giuramento e quindi se ne andò dall'Italia. Quindi in qualche modo, poi finita la guerra, si era creato un po' questa sorta di luogo comune, sai le schematizzazioni a questo mondo, che il Cotè Longhiano rifletteva in qualche modo, non dico il fascismo, però una impostazione autoritaria in qualche maniera, anche nella gestione universitaria. Il Cotè Venturiano rifletteva una impostazione libertaria, progressista. In verità nessuna delle tue tesi era davvero così vera, però Brandi si è trovato, diciamo, in una posizione favorevole per motivi di età. Brandi è nato nel primo decennio del Novecento, quindi ha impattato, sì, sulla problematica fascista, ma non è stato molto coinvolto. Quando la guerra è finita, quindi, lui si è posto, aveva acquistato intanto la grande fama di sommo studioso, sommo letterato e sommo esperto di restauro, quindi la tutela del patrimonio artistico. E questo gli ha consentito di tenere una posizione equilibrata, serena, anche se alquanto conflittuale con la linea longhiana, perché Brandi, bene o male, era più legato al mondo della scuola romana. Venne infatti poi, divenne poi docente a Roma, Brandi, cosa che Longhi non è mai stato. Non è mai stato. E intorno a questo dibattito c'era la centralità, o meno, dell'opera d'arte in quanto tale, e uno degli esercizi che caratterizza lo storico dell'arte, e questo delle attribuzioni, di cui tu sei stato ovviamente uno dei punti di riferimento più importanti al mondo, possiamo dirlo, insomma. È così. Io sono sempre stato molto affascinato da come si fa un'attribuzione, perché chiamano una persona piuttosto che un'altra, e qual è il tuo processo per poter dire sì, questo è un Caravaggio, questo è un Raffaello, questo è un Michelangelo. Sai, l'attribuzione è un processo mentale del tutto normale, condiviso da tutta l'umanità. Oserei dire, da tutti gli esseri viventi, nel senso che l'attribuzione consiste nel ritenere, di riconoscere qualche cosa o qualcuno che si conosce già in una circostanza in cui invece quella persona o quella cosa non si è trovata. Attribuzione vuol dire saper riconoscere. Ora, questo è tipico. Ogni essere umano ha questa caratteristica. se tu senti al telefono la voce di una persona amica o amata e che quindi tu conosci benissimo, non hai bisogno di dire chi parla, chi è, perché esegui l'attribuzione, cioè dai dati della percezione, in questo caso uditiva, ma sai, i sensi si equivalgono, tu riconosci. Quindi tu hai fatto un'attribuzione. Hai detto, non hai bisogno di chiedere chi è. Ecco, lo studioso d'arte, che ha una buona attitudine a riconoscere, quello è un fatto, diciamo, condiviso da tutti, ma in alcuni più sviluppato dall'esercizio e dal gusto personale, ecco, allora che ritiene di essere più capace di un altro, si trova di fronte a un quadro di cui non si sa l'autore e lo riconosce, ma certo, questo è il linguaggio del mio amatissimo Caravaggio o quello che sia e quindi a quel punto io dico, è lui, posso sbagliare? È certo, sbagliare un'attribuzione è facilissimo. Io faccio sempre l'esempio dei gemelli. Tu conosci due gemelli, li vedi sempre, che si assomigliano come gocce d'acqua. Dopo, quando li incontri separati, potresti sbagliare il riconoscimento. Quindi l'attribuzione è legata all'attitudine a riconoscere e al sentimento. Così ben raccontato, penso che chi ci ascolta abbia pochi confronti, è per noi un grande privilegio entrare in uno dei grandi segreti dello storico dell'arte, che è quello dell'attribuzione, insomma. È un segreto relativo. Pensando alla tua carriera, insomma, so che tu hai cominciato a Genova e poi sei stato sovrintendente di quello che si chiamava allora Polo Museale di Roma. I nomi al ministero cambiano in continuazione. Il Polo appare, scompare, riappare. Però il Polo di Roma raccoglieva grandissimi musei, Galleria Borghese, Palazzo Venezia, Castel Sant'Angelo. E io ti ho conosciuto nel 2003, nel 2000, insomma, tanti anni fa, quando tu prestassi a Bolzano Dama con Leocorno di Raffaello da Galleria Borghese. Ed è una mostra che ancora tutti ricordano. Perché noi avevamo, insieme a Cristina Costa, che allora era la persona che lavorava con me, appunto un funzionario di grande intelligenza, aveva avuto l'idea di fare una mostra con un solo dipinto e un enorme, sette stanze di apparato, di racconto. Oggi parlare di racconto intorno alla storia dell'arte è fondamentale, ma tu sei stato sicuramente il più grande, il primo, insomma, no? Lavori sul web, su YouTube da molto tempo, ci sono i tuoi rimandi su Facebook, delle trasmissioni che fai con tuo figlio Federico, insomma, no? Con un dialogue, la vostra... Sì, abbiamo creato questa piccola società familiare, praticamente, proprio a questo scopo, per divertirci a fare video e andare su Facebook, Instagram, no? È una cosa incredibile vedere un grande maestro in questi mezzi che sono, diciamo, privilegiati anche dalle giovani generazioni e con quale incisività. Io ricordo i tuoi maestri in 60 secondi, anche la grande dote della sintesi. Come ti trovi in televisione? Perché poi io parlerò di te al cinema, invece. Bene, nel senso che, dato che a me piace parlare e ti dirò che poi alla fine è tutto lì. Cioè io penso di riuscire abbastanza bene in questa attività, diciamo, di divulgazione, perché a parer mio la divulgazione in qualunque disciplina è parola soprattutto. Certamente è anche scritto e ci sono libri divulgativi eccelsi in tutte le discipline, però la parola, il parlare, anche il dialogare, secondo me è lo strumento principe perché in realtà il piccolo segreto, almeno che io ho in mente, è questo, è che per portare tante persone potenzialmente interessate a un interesse poi effettivo è consapevole, è proprio così, è proprio questo il termine giusto. Tutto sta nel riuscire a parlare, cioè parlare di, non parlare su. Noi parliamo di tematiche artistiche e più che dare spiegazioni ne parliamo, ne parliamo. Parlandone si scopre che quella disciplina è realmente interessante per la nostra sensibilità, il nostro gusto, il nostro divertimento. Ecco. E quello delle effettive esperienze di conoscenza è una delle cose più difficili da fare intorno alla storia dell'arte e io ho sempre riconosciuto in te proprio questo primato, insomma, sei arrivato prima di tutti e ancora adesso, insomma, è impossibile arrivare al tuo livello. Io ricordo, siamo stati insieme in Vaticano quando hanno presentato il bellissimo film su Caravaggio, L'anima e sangue di Jesús Borse Lambert e alla fine della presentazione io dissi a questo regista spagnolo questo non è un film su Caravaggio, questo è un film su Claudio Strinati. Speriamo che non si sia arrabbiato. No, 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 perché lui riconosceva che la tua presenza era quasi pari a quella della fiction su Caravaggio ed era di grande impatto. Guarda, devo dire, in effetti lui fu molto caro con me e davvero mi ha dato spazio per poter parlare, proprio quello che dicevamo un attimo fa e io gliene sono stato molto riconoscente e ho piacere di sentire che questo, lungi dall'irritarlo, lo ha soddisfatto. Meno male. Io consiglio a tutti di vedere questo film perché chi vuole conoscere Caravaggio lì ha veramente un viaggio ma soprattutto consiglio di seguire Claudio Strinati su YouTube e su Facebook perché le trasmissioni da pochi secondi o da pochi minuti quelle ti cambiano veramente il tuo cammino nel conoscere l'arte e l'effettiva esperienza di conoscenza che ognuno di noi ormai ha poco tempo da dedicare agli approfondimenti e saper fare sintesi sintesi così affabulante è una grande cosa. Insomma, tu da Genova a Roma entri nel Ministero del 74 ne esci nel 2013 hai conosciuto quindi tutti i ministri del futuro Sì, sì, tutti e tutti è una cosa di cui mi glorio molto anche se poi in realtà perché poi ti dirò sono riuscito più o meno a conoscere sul serio cioè non soltanto a presentarmi ma avere la possibilità di interloquire di organizzare di farmi guidare peraltro però diciamo il tuo grande contributo alla cultura di questa nazione sono state sicuramente anche le grandissime mostre e tantissimi ricordano la mostra Palazzo Venezia quadri romani fra i 5 e i 600 io personalmente mi sono innamorato della mostra su Sebastiano del Piombo perché hai avuto il coraggio di chiamare un allestitore come Ronconi che mise i quadri in una specie di binocolo verde e l'emozione che si provava con quell'allestimento che guidava lo sguardo ancora adesso è difficile da replicare ma facendo le mostre facendo i tuoi incontri avrai conosciuto le persone più interessanti del panorama della storia dell'arte e non solo Paolo Baratta la prima trasmissione qui ha detto in fondo la vita di un grande professionista è fatta di incontri quali sono stati gli incontri per te più importanti che hanno segnato il tuo crescere che ti hanno fatto diventare Claudio Strinati insomma effettivamente quello che Baratta ha detto lo sottoscrivo è così perché in effetti occupandoti delle grandi opere d'arte inevitabilmente tu devi occuparti di coloro i quali le gestiscono in qualche modo non dico che le possiedano ma le possiedono in quanto capacità poi di esporle di commentarle di restaurarle per cui guarda alcuni grandissimi storici e critici d'arte per esempio che mi hanno molto aiutato in questa attività delle mosse ti cito un nome per tutti Federico Zeri il celeberrimo e complessissimo storico dell'arte uno dei più grandi veramente dei più grandi personaggi nel nostro campo che abbiamo mai incontrato e poi certi direttori mitici dei grandi musei Pier Rosenberg per esempio quando era direttore del Louvre o Filippe de Montebello che fu direttore per tanti anni del Metropolitan di New York ecco due personalità gigantesche che effettivamente dicendoti una parola o portandoti in una determinata situazione ti permettevano di crescere e tra l'altro con grande generosità devo dirti noi su Zeri a Bolzano abbiamo fatto una mostra molto bella prendendo la sua frase il capolavoro non esiste è il titolo della mostra sicuramente è un grandissimo personaggio guarda non ti dico non ti dico le cose che ho imparato io da zero un'infinità veramente e voi vi siete proprio conosciuti a Roma cioè c'è stata contiguità tra tra di in qualche mostra o in qualche occasione di lavoro sì sì tu hai citato la mostra che io curai tanti anni fa quadri romani e quella mostra è nata per larga parte proprio attraverso i primi contatti che io ebbi con Federico Zeri perché stavo studiando dei suoi scritti lo andai a trovare nella sua villa di Mentana dove lui riceveva e attraverso una lunga serie di incontri e di discussioni maturai l'idea di quella mostra che lui approvò non solo la approvò ma addirittura tanto apprezzò quel lavoro che voleva essere pensa presente all'inaugurazione una cosa indimenticabile non veniva mai perché era un tipo molto burbero così venne venne all'inaugurazione e commentò da par suo alcune cose tra l'altro anche rimproverandomi di alcune sviste devo dirti che su cui aveva ragione ma sai è così era stato comunque una soddisfazione insomma grande ecco io credo che questo che tutto quello che ci hai raccontato sia veramente utile per chi si occupa di storia dell'arte anche in una provincia più lontana da Roma che è un fulcro ovviamente importantissimo al mondo avere la possibilità di ascoltare questi racconti e vedere una personalità appunto che nasce da incontri così importanti credo che sia veramente utile soprattutto per i giovani e io chiudo sempre chiedendo all'ospite qual è il consiglio che puoi che ti senti di dare a chi da giovane si vuole avvicinare al fare cultura nella storia dell'arte insomma a studiare o a lavorare nel mondo della storia dell'arte quello di essere diciamo di tenere i due piatti della bilancia e cioè l'elettronica e l'esperienza diretta e il viaggio soprattutto sullo stesso livello di non far pendere uno dei due piatti troppo da una parte o troppo dall'altra è indispensabile oggi impossessarsi degli strumenti elettronici e saperli dominare ma questo equivale alla fisicità alla presenza fisica non c'è cosa più bella di viaggiare uno viaggia per vedere l'arte e a quel punto vede tutto quindi è molto benefico beh io posso che dirti veramente un enorme grazie per essere stato qui e con questo grazie saluto i nostri telespettatori grazie a tutti Grazie a tutti.